iniziamo la puntata da un tweet questo tweet in questa comunicazione molto ufficiale MrBeast, una delle persone più influenti su YouTube e in generale nel mondo dell'intrattenimento si lamenta del fatto che le persone chiedono sempre a chi è ricco di aiutare chi è in difficoltà lui decide di fare esattamente quella cosa lì essendo di fatto estremamente ricco e avendo promesso di donare tutto il suo denaro prima della sua morte, che vabbè, è una cosa che vedremo e di come le persone si lamentino ugualmente anche se sta facendo effettivamente quella roba lì, cioè aiutare chi è in difficoltà. A cosa si riferisce? MrBeast è un personaggio strano positivo, perlomeno io lo considero tale e ammiro quello che fa, ma strano ed è noto più di suoi video in cui fa solo cose semplicemente costose ma che in genere prevedono in qualche forma il gesto di regalare denaro agli altri in questo video ha fatto una sorta di gioco a premi con un monte premi di mezzo milione di dollari peraltro in forma di pila di banconote alle sue spalle, che è una roba strana in quest'altro video ha organizzato un gioco a premi in cui la vincitrice ha ottenuto la proprietà di un'intera isola e in generale tutti i video sono così regala spesso automobili denaro in contanti quel tipo di cose quello che state guardando è il suo canale e noterete quindi che anche le thumbnail sono tutte simili nel senso io non posso dire niente in merito niente ma vorrei notare il tema cioè lui sorridente è l'oggetto del video accanto a lui ci servirà tra un attimo la questione è legata all'ultimo video che ha pubblicato che si chiama mille persone c'è che vedono per la prima volta e sostanzialmente quello che lo youtuber fa è documentare in un video di otto minuti interventi alla cataratta pagati da lui stesso per persone che non possono permetterseli in soldoni infatti la cataratta è un'opacizzazione del cristallino la lente dell'occhio diciamo e se non operata può anche portare a una totale cecità e a soffrirne sono tantissime persone soprattutto nei paesi in via di sviluppo ma anche a quanto pare negli Stati Uniti l'operazione può arrivare a costare svariate migliaia di euro infatti da noi ci si può operare in convenzione col sistema sanitario nazionale e quindi visto come funziona il sistema statunitense tantissimi anche giovani lì rimangono cerchi per molto tempo per una patologia curabile che è ovviamente una follia perché parliamo del paese più ricco al mondo però ci sono persone cieche perché non possono spendere un paio di migliaia di euro in un'operazione è follia quello che lo youtuber ha fatto è stato quindi mettersi d'accordo con un gruppo di oculisti e far operare persone indigenti sia negli Stati Uniti che in vari paesi del mondo documentando tutto e facendo nel frattempo anche regali di valigette piene di soldi è un po' il suo stile questo delle valigette diciamo e sul fatto che il gesto sia buono sono tutti d'accordo perché sta usando fondi propri per aiutare persone in difficoltà che non avrebbero altrimenti mezzi per pagarsi l'operazione da soli ma è emersa una questione morale questa è ad esempio la copertina del video in questione che per chi non stesse guardando segue nuovamente lo stesso filone lui sorridente che mette una mano sulla spalla ad un bambino un ragazzino che piange perché appunto ha riacquistato la vista che è un po' ok peraltro se c'è proprio una roba che posso dire perché devo fare il pedante è che non è vero che mille persone vedono per la prima volta perché è cataratta quindi prima vedevano poi hanno smesso di vedere e ora vedono bene di nuovo però vabbè sono io che devo fare il puntiglioso torniamo sulla camera 1 dall'anteprima capirete dove voglio arrivare la questione che è emersa e se ne è parlato un sacco in questi giorni sull'internet è quella dello sfruttamento della sofferenza e del disagio delle persone al fine di creare intrattenimento sul web ma non è solo quella se in effetti il netto è comunque positivo in questo caso perché immagino che qualsiasi cosa vada bene se hai bisogno di un'operazione che non puoi permetterti anche l'umiliazione di finire un video su youtube so di che parlo, credetemi la porta più seria del discorso che vorrei impostare con voi e poi ci ritorneremo è il tipo di messaggio che mandano contenuti di questo tipo la visione del mondo sottesa in un certo senso quella visione cioè di una società in cui giganteschi capitali si spostano verso una singola persona e che solo grazie alla benevolenza di quella persona vengono poi restituiti alla comunità che ne ha bisogno io non sono necessariamente d'accordo con la polemica in toto ma per spiegarla ancora meglio questo particolare video è stato accomunato da alcuni alle storie giornalistiche che vediamo spesso negli Stati Uniti ad esempio è molto comune il filone del bambino magari figlio di un paziente oncologico che vende limonate per pagare le cure al padre l'è scritto quindi come gesto eroico del bambino ma che in qualche modo sorvola sul vero problema cioè l'assenza di sistema sanitario che possa farsi carico dell'uomo da noi non c'è quel problema lì ma ci sono le storie inventate delle signore che pur di non prendere il reddito di cittadinanza fanno Napoli, Milano tutti i giorni in freccia rossa per lavorare come collaboratrici scolastiche dove anche lì non si affronta il vero problema della questione e c'è sempre solo l'esaltazione dell'eroe che affronta la difficoltà però della difficoltà in sé per sé non si parla anzi magari si peggiorano le cose ovviamente sia chiaro non è colpa di Mr. Beast che il sistema statunitense sia questa roba qui come non è colpa dei giornalisti italiani che il mondo del lavoro italiano faccia un po' ridere però in qualche modo le azioni dei singoli soprattutto influenti come media e personalità varie contribuiscono forse in qualche modo a creare una narrazione e quindi come ci chiediamo quanto effettivamente i continui articoli sui giornali italiani contribuiscono a creare questo clima in cui si odiano i poveri la convinzione che nessuno voglia lavorare tranne noi anche il campanilismo di varia natura in questo caso si è arrivati a dire quanto chi sfrutta una dinamica estremamente capitalista per quanto a scopo di bene quindi uso queste persone per fare i soldi e poi investo questi soldi nelle persone non contribuisca a parola ad alimentare un sistema che in tanti considerano fondamentalmente sbagliato cioè dovessi scegliere tra il nostro sistema sanitario i Mr. Beast infatti per quanto io lo apprezzi mi stia simpatico e lo ammiri sceglierei tranquillamente senza paura il nostro sistema sanitario nazionale pareri? sono curioso in questi mesi è capitato più volte di parlare del rapporto tra Scozia e diritti della comunità trans vi ricorderete infatti che a dicembre il parlamento scozzese aveva votato a favore di una legge chiamata Gender Recognition Reform Bill la riforma per il riconoscimento di genere che sentata in vigore avrebbe semplificato tanto la procedura legale con cui una persona trans avrebbe potuto cambiare il proprio nome e il proprio genere sui documenti e dico avrebbe perché qualche settimana fa il Regno Unito ha imposto il proprio veto sulla questione peraltro generando interessanti discussioni su quanto Londra possa interferire sui processi legislativi scozzesi però la storia in questo momento è un'altra della questione trans in Scozia ne parliamo infatti per un'altra ragione cioè perché in questi giorni è scoppiato un dibattito relativamente a un'altra notizia sul tema che riguarda nello specifico le donne trans in carcere domenica infatti il ministro della giustizia scozzese Keith Brown ha annunciato che le linee guida penitenziarie secondo cui i detenuti devono essere assegnati al carcere del genere in cui si identificano ad esempio nel caso di una donna trans nel carcere femminile vadano temporaneamente sospese in attesa di una revisione urgente a carico dell'SPS il servizio carcerario statale ed è una cosa presa sul serio un portavoce dell'SPS ha già confermato infatti che questa revisione è attualmente in corso mentre sino al momento in cui la revisione sarà ultimata qualsiasi detenuto trans con una storia di violenze verso donne verrà messo solo in strutture maschili quindi qual è la questione soprattutto qual è la miccia che ha fatto innescare il dibattito poi queste scelte si parla principalmente di Aisla Bryson una donna transgender di 31 anni condannata per aver compiuto violenze sessuali a danni di due donne nel 2016 e nel 2019 che ha costituito per la Scozia la prima volta in cui una donna trans ha ricevuto una condanna di questo tipo e la particolarità del caso poi è che Bryson ha affrontato la transizione dopo aver compiuto questi reati nel 2021 a distanza quindi di due anni dall'ultimo reato in questione a seguito della sentenza comunque mercoledì scorso la detenuta era stata mandata in un carcere tutto al femminile chiamato Cronthorn Vale in attesa di una valutazione del rischio che avrebbe quindi determinato se la sua presenza comportasse o non pericolo per le altre donne detenute ma la cosa aveva innescato subito un rumore nell'opinione pubblica e la detenuta era stata poi spostata il giorno dopo in un carcere maschile a Edimburgo un elemento politico estremamente interessante è che sapete chi si è intestata la responsabilità la decisione di prendere questa detenuta transgender e spostarla in un carcere totalmente maschile? è stata la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon è una decisione che ha preso lei è interpellata dal leader del partito conservatore Douglas Ross la premier ha anche spiegato la propria posizione sottolineando come in generale qualsiasi prigioniero comporti un rischio di molestia sessuale è segregato rispetto agli altri anche nella fase di valutazione del rischio quindi sostanzialmente dicendo sì noi la stiamo mettendo in un carcere totalmente maschile ma tanto comunque è isolata dagli altri e quindi non c'è problema non solo Nicola Sturgeon e anche questa cosa è molto importante ha il tempo stesso rimarcato l'importanza di non trasmettere il messaggio che le donne trans siano direttamente collegate a una minaccia verso le altre donne trattandosi di casi isolati quindi in qualche modo volendosi comunque smarcare da una retorica interna da alcuni ambienti femministi le cosiddette TERF per cui questa equivalenza tende invece ad essere evidenziata e che spesso porta ai discorsi per cui gli uomini fingono di essere transgender per molestare le altre donne frequentando gli stessi spazi quel tipo di robe lì c'è poi un altro caso relativo a questa tematica si tratta della detenuta Tiffany Scott si tratta di un'altra donna trans che nel tempo ha subito diverse condanne tra cui quella di aver stalkerato una tredicenne inviandole a lettere dal carcere avendo anche un comportamento piuttosto violento nei confronti dello staff carcerario come gli ufficiali penitenziari e gli infermieri ecco, a quanto pare Scott che al momento si trova in un carcere maschile aveva richiesto il trasferimento verso una struttura penitenziaria dedicata a sole donne e il report del daily record aveva da poco ottenuto il nulla osta ovviamente a seguito della decisione del ministro della giustizia al momento qualsiasi spostamento della detenuta è però stato sospeso ma il caso ha voluto che le due vicende di Bryson e di Scott emergessero nello stesso periodo fungendo da propulsore per il dibattito donne trans e carceri che come immaginerete come qualsiasi dibattito abbia a che fare con le persone transgender tende a scaldarsi piuttosto velocemente ma siccome noi qui perché io c'ho la fissa siccome io c'ho la fissa andiamo a vedere anche qualche dato perché i dati ci raccontano delle storie allora un articolo della BBC che si è occupato di trattare la questione riporta come perlomeno nel caso scozzese le detenute trans occupino lo 0,2% del totale dei detenuti secondo gli ultimi dati infatti ci sono circa 7000 prigionieri uomini in tutto il territorio scozzese di cui 4 uomini trans e 280 detenute donne di cui 11 trans quindi sono numeri estremamente piccoli che come tali sono più facili da gestire ci fossero ovviamente centinaia e centinaia di detenuti transgender ma da sé che una questione una gestione sul singolo caso sarebbe un attimo più complicata però qui parliamo di una ventina di persone in tutta la Scozia giusto per dare qualche altro parametro dati dell'anno scorso ci dicono che in tutti gli Stati Uniti c'erano 1200 detenuti transgender su un totale di circa 156.000 persone quindi lo 0,77% e in Italia ancora meno secondo l'ultimo report dell'anno scorso di Antigone un'associazione che citiamo spesso e si occupa di diritti nelle carceri ad oggi le persone trans in Italia che si trovano negli istituti penitenziari sono in tutto 63 si tratta dello 0,1% del totale e sono tutte donne alcune si trovano in carceri femminili altre in ali specifiche dedicate a persone trans ed effettivamente basandoci sul dibattito che c'è in Scozia il fatto che si possano creare delle sezioni solo per donne trans che poi immagino siano un paio di cere dedicate non è che devono fare l'intera struttura solo per persone transgender in Scozia non sembra una questione presa in considerazione immagino a causa del numero esiguo delle casistiche che è comunque una delle ragioni per cui anche su piccole cose poi si fanno resistenze che ne sono gli spogliatoi dedicati altra questione che ciclicamente torna e che poi ovviamente per tante ragioni non si fa non si fa per concludere comunque e anche per tornare al caso scozzese su Bryson si è espressa anche l'organizzazione Scottish Trans che come si è vincita dal nome si occupa dei diritti della comunità coinvolta sostenendo che la scelta di Sturgeon fosse legittima e condividendo più in generale il fatto che nessuna persona che ha commesso crimini sessualmente violenti contro le donne dovrebbe essere ospitata in strutture penitenziarie insieme alle altre donne ora sospetto che possiate avere dei pareri in merito al solito li leggerò al mattino facendo colazione ma in generale comunque continuo a ribadire come la questione transgender sia da una parte espressione di una maturità della società che si rende conto della presenza di una minoranza che in passato è stata ignorata quando non proprio perseguita e lo è tuttora perseguita in varie parti del mondo ma contemporaneamente d'altra parte emerge anche la complessità nel voler mettere a proprio agio queste persone e garantire il loro spazio i diritti cioè è faticoso garantire spazio diritti fare distinguo leggi e quindi al netto di far emergere alcune comunità che è stata la realtà per le persone transgender negli ultimi anni c'è poi tutta una fase di convincimento della società che affrontare la fatica e la complessità di questo dibattito e anche le scelte successive al dibattito ne valgano la pena insomma quella è la parte difficile convincere la società che ne vale la pena e siamo all'inizio siamo in chiusura parliamo di un oggetto piccolissimo che sta creando un bel po' di preoccupazioni in Australia da qualche giorno e per avervi un'idea delle proporzioni questa è una moneta da 10 centesimi di dollari australiani poco più grande rispetto ai nostri 20 centesimi circa 2 centimetri e questa è invece una riproduzione dell'oggetto in questione una minuscola capsula di 8 millimetri di altezza per 6 di larghezza che se confrontata con la moneta ha più o meno queste proporzioni perché ne stiamo parlando forse lo sapete già se ne sta parlando un sacco ma ne voglio parlare anche io perché la capsula contiene del cesio 137 un elemento radioattivo che è spesso il sottoprodotto della fissione nucleare dell'uranio e che viene utilizzata all'interno di strumenti industriali per misurare ad esempio la densità dei materiali capsula che però è stata persa nel percorso fatto da un canyon che la stava trasportando da un sito minerario nella regione di Pilbara in Australia occidentale a Perth capitale del medesimo stato fate conto parliamo di un tragitto di 1400 chilometri quindi poco meno di un viaggio in macchina da Bolzano a Palermo è un po' di cioè c'è c'è molto spazio allora lo smarrimento è avvenuto qualche tempo fa per quanto se ne stia parlando solo ora ed esattamente nei giorni tra il 10 e il 16 gennaio mentre le autorità sono state notificate della questione il 25 gennaio nove giorni dopo e solo lo scorso venerdì la cosa è stata resa pubblica con una conferenza stampa instaurando uno stato di allerta in alcune parti dello stadio occidentale che ce frega ci interessa perché questo oggettino è estremamente pericoloso secondo le autorità sanitarie dello stato australiano passare pochi istanti vicino alla capsula equivale a ricevere le radiazioni a cui normalmente si è esposti nell'arco di un anno e per questo le autorità raccomandano quindi chiunque trovi questa cosa a stare a 5 metri di distanza dato che non solo un'esposizione ravvicinata potrebbe causare ustioni ma nel caso di esposizione prolungata potrebbe portare a malattie causate da radiazioni compresa a lungo termine il cancro e vista le dimensioni di questo oggetto è anche plausibile starci vicinissimi e ovviamente non vederlo nemmeno cosa che ovviamente complica le ricerche il dipartimento governativo dedicato alla gestione delle emergenze ha fatto infatti sapere che la ricerca si sta attualmente concentrando nelle aree più popolose di Perth e in altri siti strategici non ovviamente occhio nudo perché sarebbe folle quanto con dei rilevatori di radiazioni che si possono utilizzare mentre si guida un veicolo il che velocizza le cose e possono contare su un raggio di rilevazione di 20 metri nonostante l'ambulitazione del governo però ufficiali governativi hanno ammesso che ci sia una concreta possibilità che la capsula non venga mai trovata anche perché può essere benissimo che si sia incastrata negli pneumatici di altre macchine che hanno attraversato lo stesso percorso del camion e quindi trasportata chissà dove quindi e soprattutto di chi è la colpa perché poi noi siamo italiani e la prima cosa che dobbiamo chiederci è di chi è la colpa che testa deve saltare soprattutto perché qua potrebbe morire qualcuno per sta roba qui magari più di qualcuno allora il trasporto era per conto della compagna mineraria Rio Tinto magari il nome vi ricorderà qualcosa perché l'azienda aveva già in passato dei guai nel 2020 per aver fatto esplodere una grotta aborigena di 46.000 anni magari ve lo ricordate ne abbiamo parlato anche qui su Breaking Italy ed è in generale una compagnia nota per i suoi trascorsi problematici da un punto di vista ambientale che però non fate i prevenuti si è già scusata per aver perso la capsula per quanto il trasporto fosse comunque assegnato a un'azienda terza il cui nome per ora non si trova negli articoli trasporto che sarebbe stato messo in atto con tutte le procedure di imballaggio necessarie prima di partire secondo le ricostruzioni il disastro sarebbe avvenuto perché le vibrazioni del camion avrebbero allentato i bulloni e le viti dello strumento che conteneva la capsula facendo in modo che questa si aprisse e cadesse attraverso le fessure del camion che non è vero io non ci crederò mai a questa cosa però va bene nonostante questo comunque la polizia ha inquadrato il tutto come un incidente quindi nessuna responsabilità penale da parte di Riotinto per quello che è accaduto avendo il corriere provveduto a mettere in atto tutte le procedure di sicurezza ma anche dando questa cosa per buona cosa che io non do per buona affatto e secondo me qui qualcuno sta mentendo potrebbe essere che semplicemente questo oggetto sia andato perduto punto e basta e non sia mai caduto da nessun camion ma dandolo per buono rimane una storia assurda che potrebbe potenzialmente avere ripercussioni tragiche anche se visto il territorio enorme sul quale la ricerca si sta svolgendo potrebbe anche essere che questo diventi uno di quei casi di cui non sapremo mai la verità e sarebbe meglio per una volta a meno che davvero non succeda qualcosa e le radiazioni vengano scoperte da qualcuno nel modo peggiore dei modi ma speriamo di no ed eventualmente ne parleremo ancora e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato vi ricordo soltanto che credo che ci sia ancora qualche biglietto disponibile per Elish Line non sono così sicuro io ve lo dico però non ho controllato quindi potrebbe essere che li abbiamo già finiti però abbiamo aperto la balconata quindi se volete venire l'8 febbraio a sentire me che parlo con Elish Line in teatro fatelo vi aspetto link in descrizione era tutto fate i bravi ci vediamo domani grazie a tutti